Le immagini che mostrano Giulia Latorre chiedere la mano alla compagna Rosi Grano tra gli applausi dei colleghi in divisa sono state commentatissime sui social per la portata del gesto che ha coronato il loro amore ma anche per il contesto eccezionale in cui è avvenuto, ovvero la cerimonia di giuramento nella polizia penitenziaria. Ho cominciato a pensarci da quando mia mamma è andata via, è morta due mesi fa a causa di un cancro. A me non piacciono le smancerie ma i miei colleghi insistevano perché facessi qualcosa, ha raccontato a Repubblica Giulia, figlia del Marò Massimiliano per anni detenuto in India, inizialmente restia a rendere così plateale la sua proposta. Non volevo mettermi al centro dell'attenzione però anche perché parliamo di due donne e magari piovono le critiche. Mia madre ci teneva tanto, nel giorno del mio giuramento voleva esserci e però è cambiato tutto in poco tempo. È stato il modo per tenerla con me. La mamma di Giulia è scomparsa di recente. Quello con mia madre è un rapporto molto stretto, mi ha cresciuta lei con i nonni. Negli ultimi anni ero lontana da casa però e quando le cose sono peggiorate facevo su e giù. Mia madre non voleva che stessi a casa, voleva che mi facessi una vita e non mi preoccupassi per lei, ha spiegato. Gossip Time vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.